Silenzio sulla realizzazione dell'hotspot per l'identificazione dei migranti nella ex caserma di Bisconti a Messina. Il governo non comunica ufficialmente date e tempi alle istituzioni locali, ma non smentisce e la volontà di fare della città dello stretto un punto di riferimento per l'accoglienza dei profughi è confermata intanto dalle parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gian Claudio Bressa, che rispondendo all'interpellanza del deputato del Movimento 5 Stelle, Francesco Duva, ha dichiarato che al porto di Messina verrà realizzata una struttura modulare in grado di accogliere tra i 200 e i 300 migranti. Per quanto riguarda il vero e proprio hotspot una risposta del sottosegretario non c'è stata, ma fa pensare il ridimensionamento della struttura di Mineo sempre annunciato da Bressa. Il territorio intanto si è già espresso per il no alla realizzazione dell'hotspot, istituzioni ma anche la Caritas diocesana. L'hotspot lo sappiamo è un non luogo di accoglienza, l'hotspot è una struttura che lede la dignità della persona, i diritti della persona, perciò chiaramente la posizione della chiesa è di netta chiusura. Ma su questo fronte il governo continua a lavorare e lo fa in silenzio.